Come ti presenti? No, parla a te, io non sono una da telecamera Merta, ciao lo puoi dire, hi lo puoi dire Bello, scegli tu This is my sister, Kamel Sai che poi lo metto nei bloopers? Hi everyone and welcome back to my channel Che c'è? Non ridere! Non sono abituata Pensa a me parlare, ok? Ah forse sei già registrando Sto registrando, certo che ho fatto registrazione Dai Seria Però questa cosa è difficile Allora Aspetta Eh Seria Seria Allora Mettiti giù, io faccio la presentazione E poi ti tiri su Ti gioco fuori come il fungo Ecco Come passa Vinted? Ma vestiti di merda Perché li hai comprato? Che cazzo vuoi che te li compri? Ho comprato queste scarpe orrende Che fanno schifo Ma chi è il criminale che l'ha creato? Mi hanno pagata Mi hanno pagata per portarle via queste scarpe di merda Questo vestito che nessuno deve sapere Chi è? Oh guarda veramente con gli stivali di quella pubblicità Sono terrificanti Io li odio Allora Che questo è il secondo video Quindi Ma ci vuoi apprenditare un video poi? Ore, 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 ore Questa è la sua versione Questa è la sua canzone E più Sì, ma per favore Scusate attenzione per la seconda part Aspetta Per favore Scusate attenzione per la seconda part Bello Bene due luci, oh mio Dio Guarda come si vede bene l'illuminante qua su entrambe Scusate attenzione per la seconda part Ascolto i cavalli No, perché? Ascolto le treci cavalli Corrono E le tue gambe eleganti Ballano Questa non so che canzone sia Sì, è una cover Ma l'originale non ho capito che canzone è La canzone coreana ha fatto cover Sì, ho capito Cazzo al cazzo Cazzo al cazzo Sì, ho capito Ma l'ho capito Quindi Faccio un po' Scusate 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 Ciao a tutti Scusate 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 Sono intappinata con le parole Ah che palle Hi everyone and welcome back to my channel If this is your first time here Hi, my name is Ivana, I'm from Italy and I make videos both day Voglio morire Ma perchè ho deciso di fare queste cose? Ti vedo Perché senza parte che Allora Hi everyone and welcome back to my channel If this is your first time here Hi, my name is Ivana, I'm from Italy I make videos Perchè ridi? La stavo facendo bene No, stai ridendo te, pirra Perchè ti ho visto ridere nel monitor Io? Si Voglio morire Ok, allora Io non ce la posso fare Io non ce la posso fare per tantissimi motivi diversi Se mi esce ancora fuori la comunicità di Vinter Mamma mia So stanca I'll see you in my next video And in the next one We'll be together Tutti gli Ateids li facciamo insieme In che senso? Seconda te in che senso? Tutti gli Ateids li facciamo insieme Le reaction e gli Ateids li facciamo insieme Sì Ok, so we're gonna react to Ateids together Forever Always together Wow, how lucky I am Ma è che gare dai And you don't really care about this now But it's ok It's random information As usual Ciao